Sparatoria in un campo di nomadi nel nord della Francia. Un uomo ubriaco armato di un fucile da caccia ha ucciso tre membri di una famiglia, una donna, il figlio di sei mesi e il nonno, martedì pomeriggio. Uno dei gendarmi intervenuti è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Il campo nomadi si trova a Roy, poco più di 100 km a nord di Parigi. Accoglie le cosiddette gens du voyage, cittadini senza fissa dimora e itineranti che stazionano in apposite aree comunali previste dalla legge. Feriti gravemente un bambino di tre anni, un gendarme e l'aggressore cui la polizia ha sparato alle gambe. Il movente potrebbe essere una disputa all'interno del campo. La situazione dopo la sparatoria era molto tesa. Un giornalista è stato minacciato da un piccolo gruppo della comunità nomade. Altri due sono stati picchiati.